Leggete i nomi che vedrete che tanti nomi vi dicono qualcosa. Gravoni, Crepex, Paolo Grassi, Alda Merini, Giorgio Gaber, eccolo qui il nostro Giorgio Gaber. E' un ciclista. Vedi che però bisogna richiamarli all'ordine, perché prendo il serpentone Ciccio. In cerchio. C'era Boni, c'è Alda Merini dall'altra parte, Giorgio Gaber. Avvicinatevi se volete. Avvicinatevi che guardiamo il tempo della città. Allora, essere sepolti qui è il massimo degli onori. Ogni anno viene sepolto qualcuno di nuovo. C'è ancora spazio, quindi per alcuni dei punti che devono ancora arrivare. Essere sepolti qui non vuol dire non essere nominati su. Molti dei sepolti qui sono anche nominati su, ma non tutti nominati su, ma alcuni dei nominati su sono sepolti anche nel parco, nel giardino del cimitero. Qui abbiamo tanti poeti, tanti scrittori. Vedete Alda Merini, abbiamo Giovanni Raboni, poeta, si tradusse anche Proust. Abbiamo poi Vido Crepax, il disegnatore di Valentina. La signora Nera, Nera era la ninfa amante del sole, lei si chiamava Anna Raggius Bucari. È una scrittrice della fine del secolo, due secoli fa. Inizio del Novecento, una proto-feminista che scrive di donne, che scrive in modo molto delicato di donne. E qui abbiamo altre persone che potete conoscere, la Merlin, è quella che ha chiuso le caratteristiche. Ah sì, la senatrice, la senatrice, la Merlin. Il valero è stato un valore basso, noto come Mephistopheles soprattutto. C'è qui Fogart, Lionello, l'artista. Qui abbiamo... Sì, sì. Vigorelli è un giorno scrittore. Sì, Agnasi Fesce sono due partigiani e Agnasi è anche sindaco di Milano. Viglio Loi, il fuggire. Sì, 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 sì. Potremmo dire qualcosa di... Vai, Ceparo, voglia. San D'Agostino. Il bacio. Esatto, esatto. Il bacio. Il bacio di Ayers. Ayers. Il bacio dell'Arca, sì. Il bacio dell'Arca, sì. Il bacio di Sori. Il bacio di Sori. Ah, anche il fittore in Duna. Sì. Tutti e due. Sì, due. Sì, due. Allora, voi non siete milanesi, aspettiamo i ritardatari. Non siete milanesi, quindi forse non conosce... Sì, anche i modenini sono ritardatari. Io no, però. Forse non conoscete Giovanni Danzi o lo conoscete Giovanni Danzi? No, io non sei il figlio. Giovanni Danzi scrisse una bella madonna. Ah, sì, la famosa canzone la conosciamo. Si narra che lui andò a cena con degli amici napoletani e gli fecero scatole così, cantando il napoletano. E lui tornò a casa e disse, vabbè, e mo scrivo una canzone milanese. E lui non è qui e si è portato in un'altra tomba. E io canto in un coro. E cantate la bella madonna. E io mi ricordo, cantiamo. Oh mia bella madonna, cantiamo. Oh mia bella madonna, che te belli che puntà, la tua non è vicina, però non è milà. La, 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 la. Quello invece è Francesco Aies, è il signore che ci ha regalato il più famoso bacio dell'arte ottocentesca. Non so dire dell'arte italiana, ha sicuramente il bacio, il bacio. Il bacio. Il bacio. Il bacio. Adesso vediamo, vediamo, altre persone che dicerano qualcosa. Capito? Quello del bacio è lui? Il bacio per il gine. No, no. È l'opera pittorica. Il bacio. Sì. Il bacio. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.